Ok, allora benvenuti a tutte e a tutti, è con grande piacere che presento a ottocentismi Anna Pegoretti, professoressa di letteratura italiana all'Università di Roma 3, ma prima Raffaello della British Academy, del World War Institute, nonché post-doc Raffaello a Warwick, dove ci siamo incontrate tra 12 e 13 nelle varie peregrinazioni britanniche, nel 21 visiting professor alla Scuola Normale Superiore di Pisa e tante altre cose. Autrice di numerosi saggi, di due libri, Dal Lito Deserto al Giardino, 2007, dedicato al Purgatorio di Dante, Indagini sul codice dantesco 2014, ma oggi anche ottocentista, perché è primo novecentista, perché il suo libro Dante a Trento, Usi e Abusi di una Ritorica Nazionale, porta lo sguardo della dantista sulla nostra modernità e questo è anche il titolo, oltre che del libro, anche del talk. Anna, te la parola quando vuoi. Grazie Martina, grazie davvero a tutte voi, alle organizzatrici, a te in particolare, perché non solo insomma mi hai presentato ora, ma hai sopportato lunghe conversazioni su questo Dante Trentino e sei stata un'interlocutrice davvero per me fondamentale, anche perché appunto questa ricerca mi ha portato su un arco cronologico che non è il mio solito, insomma, mi ha portato in terreni inesplorati ai quali sono arrivata da appunto studiosa di Dante, della fortuna di Dante nei secoli e in particolare della fortuna iconografica che si lega alle opere di Dante e alla figura di Dante. Vedremo come il monumento in cui vi parlerò oggi possa anche essere visto da questo punto di vista, cioè come un episodio della fortuna iconografica di entrambe le cose, sia dell'opera di Dante, sia della sua figura. Ora, questa vicenda del monumento dantesco inaugurato a Trento nel mille ottocentonovantasei, in sé è assolutamente, era assolutamente nota, è nominata in tutti i libri che parlano del Dante risorgimentale, del Dante ottocentesco, da anche del Dante nazionalista novecentesco. Erano anche state dedicate a esso indagini approfondite, però per lo più direi confinate o a una sfera locale, diciamo, studi di storia locale, oppure concentrati solo su un determinato aspetto, non so, la vicenda concorsuale o contesto storico. Si trattava, a mio modo di vedere, di restituire all'oggetto e all'episodio tutta la sua complessità, di reinserirlo a pieno titolo nella storia della fortuna di Dante e del mito di Dante e di ridargli anche quella valenza che indubbiamente ha di caso studio nella formazione di discorsi di tipo, diciamo, identitario e nazionale o nazionalista, che naturalmente è il versante di cui io so meno, ma del quale ho dovuto inevitabilmente occuparmi per scrivere questo libro. Allora, intanto inizio a condividere con voi un PowerPoint che cercherò anche di... Ecco, così, si vede bene? Sì? Fatto giusto? Sì, sì, perfetto. Bene. Allora, questa è la copertina del libro che è uscito un mesetto fa. Le referenze iconografiche, scusate, è tutta una grande lista, ma ho preferito fare così senza riempire le slide di credits. Ora, perché ho scelto questo oggetto di ricerca o quantomeno perché questo oggetto di ricerca si è imposto alla mia attenzione? Beh, perché rispetto, insomma, a quello che è l'intero panorama del mito ottocentesco di Dante, quale sostanzialmente è padre della nazione, il Dante di Trento è caratterizzato da una serie di peculiarità che ne determinano l'assoluta eccezionalità. Allora, innanzitutto è un monumento di nazione italiana, poi specificheremo cosa vuol dire questo, ma non inaugurato in Italia perché Trento all'epoca era ancora Austria-Ungheria. Il secondo motivo è che rispetto agli altri Dante monumentali che vedono solitamente la figura del poeta accompagnata da qualche simbolo oppure qualche scritta, quello di Trento, adesso ve lo faccio vedere sulla destra, lo vedete nella sua interezza, almeno per la parte, diciamo, davanti, è davvero un Dante imponente. Abbiamo un monumento alto oltre 17 metri che soprattutto ha una partitura iconografica molto estesa. Stiamo parlando lì, oltre a una serie di bassorilievi, ben 17 statue e lo stesso Dante compare due volte in questo, in questo progetto iconografico. Ora vorrei spiegare un momento, anche prima di tornare al giorno dell'inaugurazione che vedete nella foto in basso a sinistra, vorrei tornare un momento all'arco cronologico che ho messo, ho tematizzato fin dal titolo. Allora, il 1921 si spiega abbastanza facilmente naturalmente l'anno del sesto centenario della morte di Dante, le cui celebrazioni a Trento si mescolano più che in altri luoghi, incrociano più che in altri luoghi, le celebrazioni per la vittoria dell'Italia nella Grande Guerra. Alla fine dirò qualcosa su questo. e di fatto consegnano poi all'imminente ventennio fascista, peraltro ne parliamo oggi, insomma non abbiamo scelto questa data volutamente io e Martina, ma è capitato così, insomma non dico altro, consegnano appunto al ventennio fascista un simbolo estremamente potente. Il bozzetto, pensate che il bozzetto ehm del concorso con cui Cesare Zocchi, che è l'artista che ha realizzato il monumento, si presentò al concorso, venne regalato a Benito Mussolini. Ehm ora invece il mille ottocento novanta l'ho scelto come punto per così dire d'attacco eh perché l'anno in cui viene lanciato il manifesto di sottoscrizione e di raccolta fondi per realizzare il monumento eh ma naturalmente ho dovuto insomma delineare un contesto storico e culturale in realtà più esteso che volendo va indietro fino al mille ottocento sessantacinque, però ecco eh diciamo che la vicenda in sé si concentra eh in questi anni. Allora un capitolo nel libro ehm del quale oggi non vi parlerò è dedicato alle menzioni del territorio eh trentino tirolese nelle opere di Dante, sono ben quattro, tre nell'inferno e una nel De vulgari eloquenzia ehm che è in sé è un capitolo sostanzialmente di ehm così esegesi dantesca classica eh che però era inevitabile perché eh come immaginerete facilmente ehm proprio a quell'altezza all'altezza insomma della progettazione della realizzazione del monumento eh l'analisi di queste occorrenze fa parte della battaglia culturale e politica che passa da questo monumento. Questo succede spesso cioè eh inevitabilmente il culto di Dante passa dalle menzioni che Dante stesso fa di determinati territori. Il fatto è però che a Trento non si il tutto non si riduce solo a un problema per così dire di campanilismo ma ehm queste e questi questi versi, questi passaggi diventano parte integrante delle discussioni sui confini dell'Italia e sulla sua identità linguistica e nazionale. Ehm ora eh solo due esempi eh nel De vulgari eloquenzia Dante nomina Trento assieme a Torino e Alessandra come città troppo vicine eh ai ai confini oltre i quali si parla un'altra lingua per poter avere un volgare eh puro e annoverabile tra i volgari di sì. ehm capite come eh questa questa eh affermazione fosse problematica per parte italiana e invece fosse un assist straordinario per i i pangermanisti cosiddetti. D'altra parte il passaggio in inferno quindici celeberrimo dedicato al lago di Garda suso in Italia Bella già su un laco a piede l'Alpe che sarà la Magna sovratiralli non ha importanza adesso che andiamo a spiegare esattamente questi versi difficili peraltro eh però è certo che Dante identifica le Alpi come un tratto di territorio oltre eh il quale eh sta la Lamagna cioè la Germania ehm dove esattamente si ponesse il confine naturalmente era il problema fatto sta che questi versi diventano oggetto di contesa tra studiosi e addirittura appare non non c'è modo di confermare questa notizia però pare siano stati sottoposti a presidente Wilson durante i eh la conferenza di Parigi eh per la pace dopo la grande guerra. Ad ogni modo io oggi non vi parlerò d'appunto delle menzioni eh di di Trento di quel territorio limitrofo nelle opere di Dante vi parlerò invece della della vicenda più direttamente legata eh al momento torno su queste su queste eh su questa slide su queste foto ehm naturalmente ho dovuto eh delineare eh tutta la vicenda nei suoi vari aspetti quindi eh delinearne in contesto storico politico culturale il profilo dei promotori del monumento tutta la fase progettuale persino la vicenda concorsuale che ha portato alla scelta del del progetto di Cesare Zocchi eh e naturalmente tutto questo io ve lo riassumerò abbastanza rapidamente per poi arrivare all'analisi di questo progetto iconografico. Il monumento viene inaugurato appunto in basso a sinistra c'è la foto vedete che pioviva parecchio quel giorno eh era domenica undici ottobre mille ottocento novantasei e il monumento viene intitolato viene dedicato a Dante quale cito genio tutelare della lingua italiana e della lingua e della civiltà italiana nel Trentino. Eh tutta eh tutto il fine settimana viene occupato da celebrazioni molto importanti eh con naturalmente rappresentanze sia dal Regno d'Italia sia delle città italiane del litorale adriatico eh corone di vari tipi telegrammi non sto a a dettagliare troppo eh interessante che le celebrazioni venissero chiuse la domenica sera da un concerto niente meno che dell'orchestra della scala eh il cui programma si apriva sull'ouverture dei Vespri siciliani e si chiudeva su quella dei Guglielmo Tell eh non a caso storia della lotta del popolo svizzero contro la dominazione austriaca eh su questo tornerò brevemente più tardi. Eh il monumento si presentava dunque come un monumento esplicitamente nazionale è questo che è l'aggettivo che proprio usano i promotori teso ad affermare l'italianità eh del Trentino evidente eh a loro dire nella storia nella lingua persino nel carattere della gente. Ora una simile promozione della eh nazionalità era resa possibile eh e eh anche giuridicamente possibile dalla eh costituzione austro-ungarica quella in particolare riformata nel 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 1867 e che era stata frutto dell'Ausgleich cioè del compromesso tra eh Vienna e l'Ungheria che introduceva una norma secondo cui cito eh tutte le nazioni hanno uguali diritti ed ogni singola nazione ha diritto di conservare e coltivare la propria nazionalità e il proprio idioma. Ora vale la pena di sottolineare che l'Austria-Ungheria di fatto era eh l'unico stato l'unico esempio di stato multinazionale all'epoca in Europa e eh provava a stabilire anche su un piano costituzionale delle norme di convivenza e di tutela delle singole nazionalità. Ora nonostante questo eh la classe dirigente locale percepisce appunto la nazionale la propria nazionalità come qualcosa di messo in realtà eh in pericolo. Ora questa classe dirigente che è poi la stessa che promuove eh il monumento è a questa altezza cronologica formata da un gruppo di esponenti della borghesia della città di Trento. È una storia molto cittadina e molto poco valligiana quella del monumento. Eh una borghesia di orientamento liberale e progressista impegnata nel governo locale e anche in compiti di rappresentanza presso le diete eh imperiali. Ora ehm in effetti questi rappresentanti avevano dei buoni motivi per eh percepire un certo pericolo a causa del contesto storico politico eh che non era particolarmente eh favorevole per due motivi. Da un lato eh ecco noi dobbiamo subito sgombrare il campo da un'idea anche perché il monumento è passato alla storia come un monumento irredentista. In realtà non è così e non poteva essere così. Eh per il semplice fatto che a fine ottocento ehm l'ipotesi l'ipotesi di un'annessione al Regno d'Italia semplicemente era impensabile. Era impensabile dopo l'esito della terza guerra di indipendenza era ancora più impensabile dopo la firma nel mille ottocentoottantadue della triplice alleanza tra Italia, Austria, Ungheria e Germania. Alleanza che notoriamente si rompe solo eh al momento della grande guerra. Eh quindi come dire il redentismo fino almeno a tutto l'ottocento non è per i trentini un orizzonte politico praticabile. Eh il discorso irredentista molto più piede eh nel Regno d'Italia e un po' di più nel nel litorale adriatico. D'altra parte eh nemmeno il contesto diciamo politico amministrativo è favorevole perché eh i trentini erano facevano parte della eh compagine amministrativa del Tirolo eh che aveva capo a Innsbruck e eh nella quale eh erano nettamente eh in minoranza. Qual era eh la lotta politica dunque condotta da questi esponenti? Era una lotta per un'autonomia politica e amministrativa. Peraltro da Trentina posso dirvi che questa storia, questa retorica dell'autonomia non si abbandona mai. È la stessa che eh abbiamo anche oggi eh ad ogni modo ehm eh questa autonomia viene perseguita almeno questa ricerca di un'autonomia viene perseguita attraverso una politica di estensionismo eh promulgato dalle dalle appunto dalle dai vari parlamenti regionali e imperiali eh non funziona eh però si accompagna ed è quello che a noi interessa di più ha tutta una azione di promozione dell'italianità sul campo tramite una politica che è sostanzialmente culturale e eh tramite associazioni quali la Lega Nazionale che eh ad esempio eh operano per dare sostegno alle scuole di lingua italiana, ai maestri, eh promuovono biblioteche circolanti e cercano di ehm essere di di costituirsi contraltare di un attivismo assolutamente uguale e contrario di segno pan germanista ehm da eh delle eh delle eh associazioni appunto pan germaniste. In particolare eh l'associazione del Deutsche Schulverein che viene fondata nel mille ottocentottanta e che appunto si occupava di aprire scuole, asili eh di lingua tedesca non solo in quello che è oggi il il Sud Tirolo ma anche in in alcune zone del eh Trentino. Eh questa politica pan germanista trova un momento simbolico molto forte nell'inaugurazione nel mille ottocentottantanove a Bolzano di una statua dedicata al trovatore medievale tedesco eh Walter von der Vogelweide che peraltro si riteneva anche a a causa di alcuni studi eh da parte peraltro di eminenti eh germanisti che fosse di origine su tirolese cosa che eh non era. Eh comunque questa statua viene ribattezzata eh guardiano di confine della lingua tedesca. È chiaramente a questa statua che risponde il Dante di Trento peraltro si rispondono ehm proprio uno di fronte all'altro perché eh questa statua bozzanina guarda a sud il Dante di Trento eh guarda a nord. Dunque eh questo monumento trentino è un monumento promosso da una borghesia eh cittadina liberale riformista che più di eh più di tutti gli altri cesti sociali eh sente eh a cuore la questione nazionale. Mi correggerete se sbaglio nel dire che eh questo tipo di gruppo corrisponde perfettamente a un profilo pienamente ottocentesco cioè quello del del della borghesia liberale che lungo tutto l'ottocento in Europa lotta per l'ottenimento di determinati diritti eh e di determinati obiettivi eh politici. E anche l'orizzonte culturale di riferimento di questi personaggi è il medesimo condiviso per buona parte dell'ottocento da tutta la borghesia italiana ed è riassumibile eh in quella formula coniata da eh Alberto Banti di canone risorgimentale cioè una serie di ehm testi fondamentali in particolare letterari che va da Foscolo al Manzoni delle Odi Civili da eh Mazzini a Giuseppe Giusti passa anche dal melodramma e proprio i due titoli che ho nominato prima erano integralmente parte del eh canone risorgimentale annovera eh questo canone anche una gloria locale il trentino Giovanni Prati poeta filosabaudo mh autore della no della celebre eh Ed Menegarda molto fortunata ehm e però eh ecco a quell'altezza cioè a fine ottocento è un canone che non può che eh culminare nel vatte dell'Italia eh unita il vatte per eccellenza Giosue Carducci che infatti ha una parte non piccola in tutta la vicenda del eh monumento e alla quale brevemente accenderò. Ehm ora tutto questo complesso di di testi di simboli ehm ha un nome tutelare indiscusso in Dante. Questo non c'è dubbio ce l'ha insegnato benissimo in un saggio tuttora direi insuperato eh Dionisotti eh che ha eh messo in luce come eh l'ottocento a partire anzi già da fine otto settecento con Alfieri, Monti eh e poi Foscolo e Mazzini ehm operi una rivoluzione, una vera e propria rivoluzione giustamente Dionisotti la chiamano così che trasforma quello che era il eh quadronvirato dei poeti maggiori Petrarca, Ariosto, Tasso oltre a Dante in un principato eh esclusivamente dantesco nel momento stesso in cui sto parafrasando eh Dionisotti in cui si faceva della letteratura una vera e propria religione civile. Ora è vero che recenti studi eh penso in particolare all'ultimo libro di Francesco Bruni eh hanno eh un po' messo hanno complicato il quadro di questo canone risorgimentale che non si afferma in maniera poi eh così pacifica però io devo dire che eh nel Trentino di fine ottocento eh almeno per il Trentino di fine ottocento questo tipo di eh così dispositivo ormeneutico se vogliamo funziona eh molto bene perché ritroviamo esattamente questo canone eh per così dire cristallizzato come congelato nel tempo. Provo a ehm dimostrarvi questo eh leggendo alcune parti del manifesto di sottoscrizione che appunto quello che viene lanciato nel mille ottocento novanta. Allora provo a ehm zoomare un po' anche se non credo si veda bene credetemi. In esergo si legge onorate l'altissimo poeta naturalmente facile citazione nel verso che Dante dedica a Virgilio già scolpita sul cenotafio dantesco di Santa Croce segue il richiamo ai sepolchi rifoscoliani in particolare a quel passaggio in cui le tombe dei grandi del passato sono dette testimonianza ai fasti e dare ai figli eh versi pressoché obbligati per chiunque volesse rigere un monumento ai grandi del passato poi continua il manifesto eh dicendo che eh poiché il culto dei grandi è inestricabilmente legato a quello della lingua si è deciso di cito rendere una pubblica insegna e testimonianza di affetto e gratitudine a Dante Alighieri al padre della nostra lingua e della nostra civiltà il quale fu il genio creatore che le volvi al caro e fiorentino alla dignità di lingua nazionale fu il fondatore dell'unità morale d'Italia e eh poi si chiude questa frase con una citazione il regnare di lui sul pensiero italiano fu sempre infallibile pronostico di risorgimento ecco questa citazione è la prima di una serie di tre ehm dalle opere di Vincenzo Gioberti questa viene dal eh Trattato del Bello le altre due vengono una dal rinnovamento civile d'Italia si leggono dopo nel prosieguo del testo eh si dice che la commedia è uno di quei libri onnipotenti che partoriscono una civiltà tutta quanta e ancora una terza dal primato morale civile degli italiani la commedia un'epopea per cui l'Italia tolse il vanto dello ingegno ad ogni antica e moderna nazione civile. Ora parallelamente a questo manifesto si può leggere un discorso scritto da quello che è l'animatore principale di tutta l'impresa del monumento Guglielmo Ranzi avvocato eh Trentino un discorso in cui Ranzi innanzitutto richiama l'immancabile eh paragone topico tra Omero e Dante eh indica Dante come faro di un'Italia unità sovrana non più serve di dolore o stello non manca nemmeno la citazione anch'essa piuttosto eh di brammatica insomma di Purgatorio sei e infine cita un altro vero e proprio caposaldo della formazione ottocentesca del mito di Dante eh Dante quale padre della patria cioè quella definizione coniata da Cesare Balbo della Lighieri quale italiano più italiano che si è vissuto già mai. Ecco a me sembra questa un'adozione al limite del formulare e quasi sclerotizzata direi di un discorso nazionale che viene ereditato eh di peso dalla cultura italiana di epoca preunitaria direi eh di cui si assumono persino gli obiettivi si risale cioè un discorso in cui e qui eh non faccio esempi ma eh ve lo assicuro insomma ehm che eh più che all'unità si esorta l'unione si esorta la fratellanza fra connazionali e eh il discorso nazionale può ancora prescindere dall'appartenenza a un uno stato nazione a uno stato etnico di riferimento ovvero a questa altezza se nell'Italia umbertina il paradigma culturale risorgimentale e il pantheon di glorie patrie non erano più al servizio di un'azione politica di avanguardia non avevano più cioè intenti mobilitativi diremmo eh per usare un'espressione di Bruno Tobia ma servivano piuttosto a costruire e rafforzare l'identità eh del nuovo stato no? A fare gli italiani o a nazionalizzare le masse come avrebbe poi detto Georg Mosse. Invece nel contesto trentino in quegli stessi anni questo stesso paradigma che appunto in una certa misura risulta congelato nella sua fase esordiale si mette nuovamente al servizio di un'affermazione attiva di diritti politici non ancora soddisfatti. Dunque vado ora al progetto eh iconografico a descrivervelo brevemente con alcune foto. Allora innanzitutto abbiamo già fatto menzione delle dimensioni e dell'ambizione eccezionale ehm di questo di questo progetto. Eh la statua di Dante alta cinque metri come richiesto dal bando di concorso eh peraltro eh troneggia su un basamento di granito suddiviso in tre cornici che sono dedicate ciascuna a un regno oltremondano. ehm ecco anche qui ehm appunto ho già ho già anticipato il fatto che eh questo monumento ha passato la storia come un monumento irredentista ma la mia obiezione è che se se fosse stato davvero un monumento così palesemente unicamente irredentista non sarebbe stato realizzato non glielo avrebbero eh lasciato fare. Ora in realtà eh quello che svolge questo programma iconografico è un discorso nazionale coerente ed esteso e lo può fare e anche ambiguo cioè interpretabile a vari livelli tutto sommato. Lo può fare grazie a un'impostazione estetica che è magniloquente quindi è in grado di sostenere un discorso piuttosto esteso e grazie a un classicismo che è in grado di farsi carico di un allegorismo eh continuato eh che però anche al contempo eh esplicito e comprensibile. Eh sorvolo sulle iscrizioni perché insomma ci prenderebbero troppo tempo non sono neanche poi così interessanti vado invece su alcuni particolari eh specifici. Parto dalla figura di Minosse che ehm in maniera del tutto eccezionale a quel che so eh della della tradizione del Dante ehm dell'iconografia dantesca indica da solo quasi mettonimicamente tutto l'inferno e naturalmente sta lì come simbolo della giustizia. Minosse è il giudice no? Che giudica le anime in arrivo. Ora questo Minosse è particolarmente interessante non solo per questa scelta iconografica del tutto peculiare ma anche perché eh rivela come mezzocchi avesse delle fonti europee assolutamente aggiornatissime. Cioè abbastanza evidente come eh si mescolino in questo Minosse da un lato uno dei ehm dei modelli più forti del simbolismo europeo di quel momento cioè il lucifero di Franz von Stuck e eh naturalmente il pensatore di Rodin che ricorderete che mh nasceva come addirittura rappresentazione di Dante stesso e che era stato per la prima volta eh mostrato al pubblico nell'esposizione in Parigi del mille ottocentottantanove quindi uno zocchi insospettabilmente eh aggiornato. La terza cornice del piedistallo eh invece è decorata con una semplice lastra a basso rilievo su cui si sistemano alcuni angeli e sul davanti la vedete Beatrice che eh non ha eh nessuna poi eh funzione particolare se non quella di vegliare sul sottostante gruppo che è il vero e proprio centro simbolico del programma iconografico e politico del monumento. La scena ritrae l'incontro tra eh il poeta Mantovano Sordello e Virgilio accompagnato da Dante che peraltro vedete osserva la scena da dietro la spalla eh di di Virgilio con un'aria curiosa insomma insomma una realizzazione particolarmente felice e è qui che si capisce come Dante sia dunque rappresentato due volte potremmo dire una volta ehm eh come come autore e nome tutelare della nazione un'altra volta come personaggio invece del poema. Ora quello rappresentato naturalmente il momento in cui Sordello capisce che ha davanti Virgilio e quindi si inginocchia eh pronunciando le famose parole o gloria di latin per cui mostrò ciò che potea la lingua nostra eh parole che vengono da Purgatorio sette peraltro mostrò ciò che potea la lingua nostra riferito a Dante è scolpito nella pietra di fondazione del monumento eh quindi come dire un momento che accompagna eh tutta la progettazione eh dall'inizio fino alla fine. Ora che cosa sia questa lingua nostra eh lo si capisce facilmente naturalmente l'italiano che costituisce la caratteristica principale no di ehm dell'italianità dei trentini peccato che nel testo di Dante cosa sia questa lingua nostra in realtà è è qualcosa di difficilissimo da capire eh quantomeno perché eh Sordello era un poeta provenzale, Virgilio un poeta latino, Dante un poeta in volgare e quindi capire quale cosa sia questa lingua nostra non è per niente semplice eh per i dantisti. Naturalmente nell'interpretazione eh nazionale semplificata eh che ne dà il monumento la la soluzione è del tutto eh palese. Si unisce chiaramente in questa rappresentazione eh si unisce al tema della lingua anche quello della fratellanza tra concittadini. Per esempio c'è fatto che nel canto precedente ricorderete che il solo nome di Mantova eh fa sì che Sordello abbracci Virgilio ancora prima di sapere che che è Virgilio e da lì naturalmente ehm parte la celeberrima invettiva all'Italia. Ora io ehm Martina quanto mi dai ancora? Qualche minuto? Sì certo cinque dieci minuti. Grazie. Allora sul resto della di questa cornice centrale del purgatorio che è affollatissima già già questo è piuttosto particolare no? Perché sappiamo che a maggior ragione a livello di fruizione popolare la cantica più fortunata è l'inferno. Qua invece a giocare la parte del leone è il purgatorio eh per cui sul resto di questa cornice centrale si sistema una nutrita serie di statue per un totale di quindici variamente raggruppate alle quali è lo stesso Gugliel Moranzi questo insomma questa anima del monumento questo capo del comitato promotore a contribuire elaborando una serie di proposte di rappresentazione simbolica di concetti ecco perché parlo di un allegorismo esteso e continuato che dovevano illustrare nel modo più intelligibile possibile il eh significato complessivo eh dell'intera opera. Sono tutti i significati di cui eh eh Ranzi parla però esclusivamente in corrispondenza privata. Eh qua vado velocemente in alto a sinistra vedete tutto il lato est del monumento in cui ci sono allora vedete ad esempio quei personaggi su due personaggi rivolti uno verso l'altro sulla sinistra eh sono gli invidiosi eh che sono ciechi ehm di base si scelgono eh invidia, avarizia, superbia, cioè i i vizi che Dante stesso a un certo punto identifica come i più gravi. Quelli sulla destra che portano quei massi sono naturalmente superbi. Molto più particolari ehm quei personaggi invece accovacciati che vedete nella foto al centro. Eh perché in realtà ben lontani da essere gli avari in realtà ovviamente questi sono i pigri e qui c'è una sorta di eh confusione ambivalenza in questa corrispondenza privata di Ranzi. Fatto sta che in questi pigri indolenti Ranzi voleva vedere tutti quei conterranei che non avevano a cuore eh la eh la causa eh nazionale. Resta poi eh da vedere il il retro dove vedete c'è quell'anima pronta a a salire a salire verso il paradiso che evidentemente ha terminato eh il periodo di eh penitenza e in cui ma solo in corrispondenza privata Ranzi voleva vedere il Trentino finalmente liberato anche se non si capiva liberato da cose in realtà probabilmente da Vienna ma forse chissà anche dal governo regionale di Lisbruck. Ehm rimane infine il Dante sulla cima ehm tuttora su questa mano stesa si dicono molte cose ehm si parla di un Dante che ferma lo straniero e indicando il confine ehm addirittura si parla di un Dante che indica eh Vienna quindi eh con l'obiettivo del eh sapete il Los von Wien il il via da Vienna addirittura eh un esponente politico qualche anno fa propose di girare il monumento in modo da fare il Los von Rom quindi un un separatismo di stampo leghista naturalmente sotto il fascismo eh si vuole vedere in quel gesto il saluto fascista chi più ne ha più ne metta in realtà concordemente tutti quelli che parlano del monumento negli anni in cui esso viene realizzato vedono in questa mano un gesto di protezione Dante guarda chi passa sotto e la mano è lì a protezione non sta indicando assolutamente nessuno ora passo per finire a un un altro eh tema che mi interessa di cui mi sono occupata a lungo nel eh libretto che ho scritto eh cioè il fatto che anche questo monumento non si discosta da altri casi che danno vita a a una vera e propria ehm poesia per monumento cioè esiste tutta una tradizione nell'ottocento italiano di poesia per monumento in particolare per monumento dantesco il capostipite di questo tipo di poesia è eh nobilissimo perché niente meno che Giacomo Leopardi naturalmente ma poi troviamo eh un profluvio davvero di eh poesie dedicate in particolare al monumento inaugurato a Firenze no nel milottocento sessantacinque quello in Santa Croce tutte poesie raccolte nell'entusiasmante antologia curata da Carlo del Balzo in ben quindici volumi eh gli ultimi cinque sono tutti eh di poesie scritte per il centenario del milottocento sessantacinque moltissime parlano del monumento eh di Firenze e anche il monumento Trentino appunto dà vita a una celebrazione in questo tipo una celebrazione poetica da parte certamente di poeti locali penso a Luisa Anzoletti a voce femminile che diventa davvero ehm la la vestale eh del monumento ehm ma anche Vittore Vittori che era ehm un membro un allievo di Carducci quindi proveniva dalla cerchia carducciana poeta peraltro non disprezzabile e e poi dell'ottimo invece forse il migliore tra questi eh poeta dialettale padre della poesia dialettale trentina Giuseppe Mor ma indubbiamente il nome maggiore è quello di eh Giosove Carducci che dedica un ode al monumento di Trento un ode che eh non leggerò che viene raccolta poi viene ehm inserita in Rime e Ritmi che ricorderete è l'ultima raccolta poetica eh di Carducci e si inserisce tra l'altro in questa raccolta poetica in una maniera molto molto attenta molto c'è tutta una geografia dell'Italia di Carducci in Rime e Ritmi ehm molto interessante e sulla quale un po' insisto eh nel libro ad ogni modo io vorrei eh attrarre la vostra attenzione solo sugli ultimi versi in cui eh sostanzialmente Carducci evoca eh un dio che eh solitario nel profondo dell'universo che regna sui distini umani e che affida a Dante la custodia dell'Italia affinché vegli su di lei fino a che non giunga la eh perfezione dei tempi in buona sostanza parche aspetti ma cosa aspetta eh questo Dante ora ehm questo momento appunto non è ancora arrivato e Dante protegge da secoli l'Italia dal bastione forte e terribile delle Alpi nel susseguirsi delle vicende storiche e fra contrasti dammatici adempiendo quello che è un vero e proprio mandato divino ora nell'autunno del mille ottocentonovantasei si è fermato a Trento e sembra in attesa ora ehm che cosa sia questo tempo che deve arrivare a me pare del tutto evidente eh è il tempo in cui le terre irredente vedranno nuovamente acquistate eh acquisite dall'Italia. parole profetiche e oracolari certamente eh non esplicite anche perché appunto avrebbero messo in grossa difficoltà eh i promotori eh del monumento in cui però si esprime direi chiaramente la convinta eh adesione di Carducci alla causa irredentista eh altrimenti ed estesamente eh testimoniata. ehm ora ehm ecco dunque che comincia davvero ad affacciarsi a partire dalla voce di Carducci e a partire dal regno d'Italia eh l'ombra dell'irredentismo o la luce a dire seconda di come si voglia vedere dell'irredentismo sul monumento trentino. È questo il destino eh di questo simbolo negli anni che vanno verso eh la Grande Guerra e ancor più durante gli anni della guerra e questo è sostanzialmente adesso farò una carrellata eh brevissima per arrivare a quello che è il termine eh della mia indagine. Eh l'uso propagandistico a cui il monumento venne progressivamente piegato nei vent'anni successivi alla sua inaugurazione e ancor più eh durante la Grande Guerra è del tutto eh documentabile e chiaro. Allora innanzitutto eh l'ode Carducciana entra in questa antologia che viene stampata dalla società Dante Alighieri nel quindici nel momento in cui l'Italia entra in guerra contro l'eterno Barbaro che naturalmente è una citazione carducciana riferita agli austriaci e ci la è un'antologia estremamente eh significativa in cui si raccoglie tutto eh il il Carducci patriottico e eh anti-austriaco eh l'aveva con sé un Cesare Battisti al momento della cattura tanto per capire quanta fortuna ebbe. d'altra parte vedete una eh cartolina di guerra in cui all'immagine del monumento che diventa una delle più usate in assoluto nella pubblicistica di guerra eh si accompagnano diversi i Carducci che non vengono dall'ode che vi ho mostrato prima ma vengono dall'ode Barbara alla vittoria eh e su questo ci sarebbe qualcosa da dire ma magari eh lo dirò durante eh la discussione eh che poi questo diventi un simbolo ehm dell'attesa messianica del tempo fatale lo dimostra la fine stessa della guerra intanto ancora questa questa mi interessa ehm per dimostrare come il monumento diventi un simbolo anche per parte austriaca eh queste sono le armi che gli austriaci eh prendono agli italiani durante la strafe e spedizione dove le mettono le mettono in bella mostra sotto a Dante. Finisce la guerra questo generale Peccori Giraldi che libera Trento che giustamente si fa immediatamente fotografare davanti al monumento e questa è nel ventidue il foglio che la sezione di Torino nel partito fascista dedica a Cesare Zocchi. Vedete eh la didascalia in fondo l'attesa è finita. È talmente finita che e su questo chiudo dal vero ehm la prima visita ufficiale dei monarchi di Vittorio Emanuele III della regina Elena nella Trento Redenta avviene esattamente nell'ottobre del millenovecentoventuno venticinquesimo del monumento e eh naturalmente centenario dantesco eh e capite come ecco perché all'inizio dicevo che le celebrazioni della vittoria nella grande guerra si intersecano così da vicino alla celebrazione del mito di Dante un Dante di guerra sostanzialmente eh quanto la grande guerra sia stata una guerra dantesca lo testimoniano molte pubblicazioni ma anche eh la vicenda e l'uso simbolico che si fece di questo eh di questo di questa opera. Io qui mi fermo e vi ringrazio moltissimo per l'attenzione scusandomi di essermi anche un po' dilungata. Grazie mille Anna di la tua splendida lezione eh io ho letto ho letto il libro quando era ancora in Word ma ci sono le immagini nel libro? Certo. Sì sì più di cinquanta guarda quelle. Ottimo no perché ho goduto moltissimo nel ascoltare questa storia che che conoscevo un po' eh potendo nove armi della della ricchezza dell'apparato iconografico che effettivamente spiega tantissimo quindi eh sono contenta di sapere che ce ne sono ce ne sono in abbondanza. Ehm aprirei allora la discussione certa che questa lezione stupenda abbia stimolato la vostra curiosità. Silvia. Se inizierei io buongiorno Anna grazie infinite della ehm della lezione della della conferenza. Ehm eh grazie perché ehm il mio il mio unico approccio a questo monumento Trentino Dante è attraverso il il film di dell'Iguoro del milenovecento undici e ehm e di questa credo se ricordo bene di queste due versioni finali in cui nel in una c'è eh la ehm la scena insomma la la fotografia del del monumento con la citazione e e poi invece una versione censurata una versione diversa e quindi adesso ho ho finalmente anche un po' conosco un po' tutto tutto quello che precede eh non so se e se ne parli nel ehm nel libro o se ci sono cose da imparare di più sul sul film e sulle decisioni che eh che sono all'interno del film. No di questo non ho ehm solo così ho fatto solo ti ti ringrazio ho fatto solo un brevecino di passaggio e e questo è quello che so anch'io cioè che ehm il film famoso insomma Inferno che viene e che tra l'altro io vidi per la prima volta ehm ero ad una graduate conference a Yale e sono andata a vedere questo film perché l'avevano proiettato nell'ambito di questa di questa graduate conference e alla fine quella era una copia in cui c'era il Dante di Trento quindi alla fine di questo film ho fatto un salto sulla sedia perché ho detto ma come? Ehm allora e alcune copie appunto sono state censurate eh dopo perché naturalmente nel millenovecento undici eh quella eh quell'immagine alla fine del film provocavano eh momenti di entusiasmo in sala, applausi, grida e che avevano cominciato a creare qualche problema al governo italiano che invece era del tutto interessato a mantenere stabile la triplice alleanza. Quindi cominciava a diventare come dire un problema diplomatico per cui alcune copie la credo forse la maggior parte delle copie esistenti in realtà è censurata. Ehm però questo rispondeva ad un uso che eh all'epoca evidentemente era diffuso di inserire un ultimo fotogramma con una qualche specie di cartolina eh simbolica. Ehm anche questo ci dimostra quanto io non avevo null'altro da dire se non questo che si sapeva già sull'argomento però ci dimostra quanto ehm già nel già o almeno ormai nel millenovecento undici il Dante di Trento fosse diventato un simbolo proprio delle aspirazioni irredentiste sempre più forti soprattutto nel Regno d'Italia paradossalmente perché poi il problema di quanto fosse sentito l'irredentismo tra ehm i i tra i trentini soprattutto insomma è un problema che è estremamente eh delicato però diventa davvero un vessillo per la propaganda italiana. Funziona tantissimo anche nell'editoria turistica. Sono stati fatti studi molto belli da in particolare da Davide Bagnaresi sul eh sulla presenza di questo monumento eh nell'editoria turistica dell'epoca eh perché poi diventa anche me è una delle famose mete dei pellegrinaggi nazionali dei pellegrinaggi irredentisti per cui si va in bicicletta a San Giusto a Trieste ma anche al Dante di Trento ci sono moltissime foto di ehm anche associazioni sportive che si fanno fotografare lì sotto non solo locali anche proprio di di italiani che insomma si fanno turismo ma una forma di turismo patriottico e lo fanno con delle guide in mano che parlano moltissimo del monumento. Grazie. Grazie. Carlo forse. Scusate. Sì. Volentieri. Grazie. Grazie mille per la presentazione eh molto interessante tanto che ho immediatamente comprato il libro su Amazon. Eh ma sì grazie. Sì sì grazie. No mi interessa molto come discorso ovviamente un'osservazione faccio prima e poi una domanda eh l'osservazione è che sono assolutamente d'accordo io mi occupo di memoria letteraria dell'impresa di fiume e un capitolo che si dimentica è quanto sia centrale la pertinenza di un discorso di identità cittadina di eh adesione a volte anche reversibile al concetto di italianità per una tutela del proprio pertinente della pertinenza cittadina cosa fonda che il discorso è sempre su ehm annessionisti da un lato e il pangermanismo dall'altro e invece è ovviamente fondamentale anche per eh alcune scelte di carattere culturale che poi spingono alla mobilitazione anche sì anche in questo caso e per quanto riguarda ecco il monumento ho eh lavorato un po' su Ferdinando Pasini grazie a Martino oltretutto perché ha dedicato a questo irredentista trentino scrittore eh un un'attenzione particolare quando Martina si è occupata del ciclo di conferenze di Yolanda de Blasi 1931 in pieno ecco eh in piena ottica fascista in pieno credo fascista eh c'è questa attenzione ai profili letterari di alcune regioni ai profili spirituali di alcune regioni e quindi questo Pasini fascista diventato fascista ritorna alla sua giovinezza irredentista e si ricorda del monumento di Dante quando a Firenze studente insieme a Battisti doveva si era messo in testa di consegnare una foto del monumento lo stesso anno del della dell'inaugurazione ai reali cioè di portare per le nozze di Vittorio Emanuele e Elena di Montenegro portare questa foto e imbastire questo discorso roboante su quanto sia o quanto sia necessaria l'annessione ovviamente questa è una un'esperienza di minare di scalmanati eh eh non rappresentativa eh sì eh infatti ehm e la mia domanda è quindi mi interessa molto questa visione teologica soprattutto in periodo fascista che vede questi momenti di presunta rivendicazione di italianità con volontà ancora una volta tra virgolette annessionistica insomma questi momenti nella storia vengono visti come un come spartiacque come momenti cardine di un processo che si conclude poi prima con la guerra sicuramente ma poi pienamente riconosciuti dal fascismo e quindi la mia domanda è sull'afterlife fascista del monumento di Dante se può darci maggiori informazioni ecco sulla prospettiva fascista su come vede il fascismo questo tipo di realizzazioni. Grazie mille per le sollecitazioni e la domanda intanto anch'io ho conosciuto il Pasini grazie a Martina e e ho letto la sua visione di Trento giusto era Martina il titolo. E a proposito di quella foto che doveva essere regalata a Vittorio Emanuele per le nozze ehm c'è anche una insomma in realtà non era solo una foto era una ehm aveva una cornice molto molto complessa eh con tutte le città del Trentino in realtà poi ci chiamano alcune di queste chiamarle città fa fa un po' ridere perché insomma Borgo Valsugana è un paesone oggi figurasse all'epoca però erano i centri urbani in buona sostanza quindi rientra, ritorna ancora questa eh dimensione eh appunto il territorio che però ha dei punti focali no? In cui si ehm proprio si concentra il il discorso culturale innanzitutto eh quella foto non venne consegnata il regalo di nozze non venne consegnato perché lo rifiutò eh la 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 stessa casa Savoia sempre ehm perché non era diplomaticamente consigliabile accettare quel regalo perché era davvero un regalo apertamente eh irredentista ehm detto questo ecco sulla ehm su quella che è la poi lo sfruttamento fascista eh del 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 monumento eh si potrebbe probabilmente scrivere un altro libro io ho deciso di fermarmi eh al millenovecento ventuno esattamente perché avevo bisogno di dare di dare un limite e di dare un equilibrio insomma al mio discorso ehm quello che ho visto è che tutta la ehm la celebrazione successiva eh assume eh è tutta senso unico e si fonda sostanzialmente su quello che è il lavoro che immediatamente dopo la fine della guerra viene compiuto da eh dagli storici in particolare da uno storico che è Augusto Sandonà il quale scrive la storia della lotta irredentista trentina ora in realtà questo è un un'opera addirittura in tre volumi insomma eh piuttosto importante eh che dal punto di vista documentario ancora di riferimento cioè tutto quello che noi sappiamo eh anche delle reazioni di parte austriaca ai rapporti di polizia e di spazi politici sono tutti contenuti in in questa opera quindi il lavoro documentario che venne fatto fu notevole naturalmente però era tutto orientato ehm e tutta questa vicenda veniva letta come una specie di lotta una sorta di via crucis di questo povero popolo eh trentino eh che era animato dai migliori ideali di fratellanza di appunto di ehm nobilità di promozione di quella che è un'eredità culturale incontestabile però è incontestata anche dalla costituzione austriaca mentre dall'altra parte si vedevano solamente sgherri ottusi che vedevano complotti ovunque quindi viene questa anche questa vicenda del monumento viene letta come una manifestazione di irredentismo che riesce nonostante tutto ora in realtà non era così in realtà le cose erano molto più complicate si poteva svolgere un discorso di tipo magari non nazionalista ma nazionale per quanto le la sfumatura mi rendo conto che sia eh poi non non insomma abbastanza lieve ehm si poteva perché la realtà storica politica giuridica era molto più complicata di quanto non la si sia rappresentata negli anni successivi sono gli anni in cui vengono fondati eh i musei del risorgimento per dire no è chiaro che ehm c'erano già le deputazioni storia patria quindi c'è tutta una storiografia che va in quel senso la cosa eh quindi mh questa è sostanzialmente poi la lettura che si stabilizza in epoca fascista che a Benito Mussolini sicuramente interessa molto perché ovviamente Benito Mussolini era una vecchia conoscenza del Trentino sul Trentino c'era scritto pure un libro eh prima della guerra il Trentino visto da un socialista ehm e eh eh tutto rientra nella retorica della celebrazione della vittoria in guerra che poi per il Trentino non è neanche tanto mutilata no come vittoria lì le cose sono abbastanza chiare finalmente si è riusciti a riacquisire il tutto il territorio fino al Brennero eh le cose si complicano di più naturalmente in terra sottirolese per eh ovviamente perché uno dei protagonisti che un po' torna in questa storia è Ettore Tolomei che è eh quel soggetto che si rende famoso per la politica politica di italianizzazione forzata ehm del del Suttirolo ehm che appunto è da è da lì che si comincia a chiamare Alto Adige in buona sostanza no? Ehm la cosa che mi ha stupito di più è che in realtà questa lettura in chiave redentista del monumento sopravvive a livello non so anche a livello giornalistico ma a volte anche a livello eh proprio di di insomma studi eh tuttora eh e questo davvero mi aveva mi ha lasciato un po' stranita francamente spero di averti risposto grazie mille ben oltre le aspettative ehm io ho una curiosità cioè sì una domanda per curiosità ehm innanzitutto grazie della bellissima veramente articolatissima presentazione non ho ancora ordinato il libro su Amazon perché semplicemente vivo negli Stati Uniti e quindi ho bisogno di un'altra piattaforma ma lo farò sicuramente tra IBS o quello che sia ehm una domanda una curiosità chiaramente da un punto di vista iconografico la statua anche se molto molto diversa è dialogo con quella di Firenze del 1865 che viene eretta appunto eh però anche in dialogo con le statue forse che non sono state erette mi chiedevo infatti da un punto di vista di chiave di lettura identista in che modo questo monumento a Dante a Trento diventa un simbolo per tutta l'area eredentista e pensiamo a Trieste che è una città che insomma non è stata citata dove non c'è una corrispondente diciamo eh statua di di Dante ecco quindi non so se può eh dirci qualcosa su come non è solamente una questione del Trentino ma diventa anche una questione un po' per tutta l'area eredentista. Allora ehm il fatto è probabilmente che a Trieste del che io tendo a nominare poco ma perché mi rendo conto che è una intanto un ambiente molto diverso che ha una situazione proprio anche storica e politica diversa eh in quel caso la minoranza italiana è minoranza fino a un certo punto perché in realtà è egemonica rispetto a quella slovena ehm e ehm è un contesto molto più articolato e anche territorialmente più vasto insomma perché poi Trieste in realtà significa poi tutta la Venezia Giulia la 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 tutta la Dalmazia e e così via quindi è un contesto molto diverso molto più difficile da da trattare e sul quale ehm io mi limito a ehm così marcare la distanza eh per quanto riguarda invece il Trentino che tutto sommato un contesto un po' più unitario un po' più semplice anche meno molto meno produttivo sul piano culturale cioè se pensiamo a cos'era il panorama letterario a Trieste negli anni di cui vi ho parlato ecco se dall'altra il poeta migliore è poeta dialettale Giuseppe Mor che credo che la maggior parte di voi santa nominare per la prima volta insomma capiamo quali sono no i valori i valori in gioco però rispetto ai monumenti eh ai monumenti costruiti e no allora innanzitutto c'è una certa dialettica rispetto ai monumenti più vicini che sono quelli di Verona e di Mantua eh che tra l'altro vengono inaugurati nel mila ottocentosessantacinque quando entrambe le città anche in quel caso sono ancora pur ancora per pochissimo austriache ehm e in quel caso si deve fare addirittura un'inaugurazione ehm all'alba quasi eh di nascosto per non creare disordini la cosa però interessante è che già lì si vede l'interesse dell'impero austro-ungarico a non vietare sicché sempliciter queste manifestazioni quello che gli viene detto è bene a Firenze non vi lasciamo andare eh i trentini chiedono di poter andare a all'inaugurazione il monumento di Enrico Pazzi non gli viene concesso però gli stemmi di Trento e Rovereto sono sul basamento del monumento quindi c'è a Firenze eh questo tema ehm però dall'altra non si permette la costruzione in questi monumenti ma addirittura in certa misura si sfrutta il culto dantesco cioè viene addirittura istituito un premio eh in nome di Dante per gli studenti italiani dell'Università di Padova che ovviamente in quel momento era impero e eh addirittura si eh dà una medaglia per i suoi studi danteschi ad Adolfo Musafia che che insegnava eh all'Università di Vienna e che era di origine d'Almate. Ehm ora a Trieste invece il culto dantesco a me pare che passi per vie diverse da quelle della celebrazione monumentale anche perché forse Carlo Leo immagino ne sappia molto più di me ehm i simboli triestini sono altri San Giusto eh i i Castello di Duino tutti questi eh sì Miramar eh eh di di Carducci che celebra questo tipo di ehm di luoghi no? Quindi ci sono i pellegrinaggi patriotici anche a Trieste ma riguardano molto meno Dante. Infatti sono invece i triestini ad andare in pellegrinaggio o a Trento o naturalmente sulla tomba di Dante a Ravenna. Ecco sono loro a spostarsi in quel caso lì. Di questo parla parla molto anche Fulvio Conti nel suo libro su su il sommo italiano uscito l'anno scorso e da questo punto di vista dedica proprio al Dante il Redentista tutta tutta una parte. Grazie. Grazie. Grazie a lei. Ci sono ci sono altre domande dalla platea. Se non ci sono te ne faccio una io Anna eh se ti va di visto che ci siamo spostati un po' sulla seconda parte della storia se ti va di dirci cosa c'entra Ernesta Battisti con con il con il tuo libro. Ecco questo te lo devo anche perché a un certo punto Martina eh arriva durante una cena e mi dice ma senti ma io ho trovato proprio nel fondo di Yolanda De Blasi a Firenze una lettera di Ernesta Bittanti sposata Battisti ehm e me l'ha di fatto regalata per cui ho potuto citarne degli stralci grazie grazie a lei alla sua generosità. Ehm allora a un certo punto eh Yolanda De Blasi invita proprio Ernesta Battisti la guerra è finita eh lei è la vedova eh per eccellenza la vedova del martire eh la invita a a tenere una conferenza al liceum di Firenze ehm proprio su eh su su Dante e naturalmente ehm Ernesta non può che rispondere citando il monumento eh declina l'invito intanto non se la sente di raccogliere questo invito insomma anche un po' non so quanto ci sia di di così di ehm davvero eh senso di inadeguatezza più o meno simulato perché in realtà Ernesta Battisti erano intellettuali di un certo eh livello però declina eh l'invito eh e però parla dell'importanza che proprio il monumento ha avuto come simbolo non per la guerra ma per le donne trentine in guerra e di come l'esempio di Beatrice fosse eh di di stimolo e e e così via no? Tra l'altro ecco questo si collega eh chissà cosa avrebbe detto eh la Ernesta e se lo vide ehm di un altro bozzetto che furono più di quaranta i bozzetti inviati eh sottoposti a concorso quindi tantissimi eh per lo più provenienti dal Regno d'Italia ma anche da 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 dal mondo germanico eh ehm e a un certo punto uno per fortuna ha visto un fiorentino guarda caso no? Che si stava perfettamente ehm però non 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 fu ecco non fu pilotata la cosa anzi tutta la vicenda concorsuale questo scusate la parentesi ma è un episodio estremamente rilevante nella storia della ehm monumentalistica eh dell'epoca ehm creò un vespaio tremendo comunque uno dei ehm bozzetti esclusi era quello di Conconi e Trubescoi che erano due eh due artisti di assoluta eh fama importanza eh in cui in realtà il centro simbolico del monumento era proprio Beatrice. Beatrice come simbolo dell'eterno femminino che è in grado di elevare gli uomini a pensieri più alti al perseguimento dell'ideale e così via. Ernesta non fa che raccogliere questo tipo di retorico politica e eh applicarla alle trentine in guerra eh che tra l'altro vi assicuro che eh hanno passato quattro anni tre anni quel che sono state terrificanti da sfollate e così via. piccola parentesi. Grazie Martina. Ah è che scherzi sono contenta di di chiudere con con la voce di Ernesta che è stata un po' domanda. Eh sì quella che ci ha anche ci ha anche connesso su questo su questo insomma su tutto questo su tutti questi temi. Ma non solo ma anche questa ultima frase che hai detto sul sul fatto che questa per te è anche una una scavo personale no? Su una donna trentina eh sì. Anna Anna di Trento nel caso non fosse stato dentro. Nel caso in cui non fosse evidente insomma sì è chiaro che tutto questo ha molto a che fare con con la mia storia personale se se vogliamo anche eh la storia della mia famiglia ecco no? O o di quello che si poteva pensare nella mia famiglia di tutto quello ehm che è successo. Grazie Anna e se non ci sono altre domande dal pubblico siamo verso la insomma l'ora di chiusura ordinaria di eh di ottocentismi e intanto vi ricordo che ci vediamo tra due settimane proprio con Olivia Santovetti che ci ha appena salutato eh e ti ha appena salutato nella chat Anna. Sì. Eh con insomma la prossima la prossima lezione della della serie e ultima per questo semestre e se non ci sono altre domande allora ti saluto vi saluto grazie per esservi per esservi connessi oggi pomeriggio per la Europa stamattina per gli States. Grazie.